Alessandro Mariani fa parte invece della squadra Lombardia, come è stata? La gara è stata emozionante, era piena di gente, facevano tutti il tifo, è stato divertente anche. E alla fine come siete messi per arrivare alla seconda magia? Per ora siamo primi perché siamo tutti a zero assieme al Piemonte e la Toscana. Potete scartare uno a zero? Sì, esatto. Secondo giro domani? Sì. Cerchiamo di continuare così, noi della Lombardia? Noi ci proviamo. Metterci tutti. Senti, che cavallo stai montando? Che cavalli stai montando? Si chiama Katouche, 9 anni, olandese. Quando l'ho preso era molto inesperto e siamo cresciuti assieme e adesso sto andando molto bene. Dove monti tu? Io monto al Centro Ipico Pegaso, a Barzago. Chi istruttore ti segue? Daniele Bozzolando. Altre gare che farai? Penso che farò la finale del circuito Pony e più avanti Ponylandia. Andrà bene sicuramente? Speriamo. Ok, grazie mille. Grazie.